Tutto pronto per la 48esima festa del vino di Monte Carlo. Il programma della manifestazione, che prenderà il via sabato 27 per proseguire fino all'8 settembre, è stato presentato nel giardino della Fondazione Carmignani. Molte le novità offerte, come il rinnovato appuntamento con il salotto del vino e del verde, curato da Fabrizio Diolaiuti, che presenterà le aziende del territorio e le abbinamenti gastronomici con i vini e prodotti locali. Poi, come sempre, esibizioni artistiche e la mostra mercato artigianale. Ma la novità sicuramente più importante di questa edizione è rappresentata dalla rinnovata piazza d'armi, che accoglierà i visitatori nella nuova veste, finalmente all'altezza della manifestazione. Migliorare la qualità significa introdurre le eccellenze, introdurre il senso della bellezza, del gusto, cercare di rendere tutto più bello. E quindi in questo stiamo facendo un lavoro che ha portato, secondo noi, dei buoni risultati, a partire dalla nuova piazza d'armi, in cui è stata appunto ristrutturata la piazza d'armi, quindi non ci sarà più il famoso polverone, che è sempre stato una lamentela della festa del vino. Questa 48esima edizione rappresenta anche l'inizio delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della nascita di Carlo IV, fondatore del Borgo, e che vedrà l'edizione del 2016 interamente dedicata a questa figura fondamentale per Monte Carlo. Già con la 48esima festa del vino ci saranno degli eventi che ci porteranno a questo. Uno, fra i primi, è una scena a tema che si terrà proprio nel salotto del gusto e del vino, e l'altra sarà un'iniziativa di carattere culturale che vedrà la visita della fortezza in una versione inedita, cioè in notturna, accompagnata da canti e musiche, proprio che rievocano il periodo di Carlo IV. Infine, per migliorare la logistica della festa, è stato individuato uno spazio di fronte a piazza d'armi, che verrà adibito a parcheggio per gli operatori, in modo da liberare numerosi posti auto per i visitatori.